Un carteggio tra il governatore della regione Luciano D'Alfonso e l'amministratore delegato della società di gestione autostrade Cesare Ramadori di Strada dei Parchi fa saltare dalla sedia Forza Italia facendo tornare la preoccupazione circa il destino dell'asse attrezzato Pescara Chieti. Il rischio è quello del pedaggio. Ora ovviamente noi conoscendo un po' questo atteggiamento omissivo sulla documentazione, come vediamo l'ipotesi che possa ritornare questo problema ci allarmiamo. Abbiamo chiesto di poter valutare e di conoscere il contenuto di questo fascicolo perché chiaramente comprenderete che noi che abbiamo fatto ricorso contro la stessa volontà del governo di centro-destra a livello nazionale quando Tremonti introdusse in finanziaria queste ipotesi, figuriamoci se oggi possiamo accettare che in una partita di giro tra Anas, Autostrade dei Parchi e Regione non possa neanche pensarsi di mettere a pedaggiamento l'asse attrezzato Pescara. Se già una battaglia era stata compiuta ai tempi del governo Chiodi, il ricorso al TAR che bocciò definitivamente il rischio fu proprio la dimostrazione che la tratta citata non rispondeva alla dicitura e alle caratteristiche di raccordo autostradale e invece nel carteggio intercettato da Forza Italia viene già indicato con questo titolo e il rischio si pone anche per la Teramo Mare. L'asse attrezzato nasce come una strada parallela a scorrimento veloce della Tiburtina e cosa accadrebbe se vi fosse appunto il pedaggio? Che tutti tornerebbero sulla Tiburtina intasando quelli che sono ormai dei centri urbani che si sono sviluppati. Cioè non esiste, l'Anas non si può sgravare questa incombenza, deve fare la manutenzione sull'asse attrezzato con i soldi delle tasse già versate dai pescaresi, dai chiedini e da tutti coloro che utilizzano questa infrastruttura stradale.